Complici e collusi, strateghi di morte, non rappresentano lo Stato, ma una gravissima minaccia contro la Repubblica. Hanno tradito l'Italia, hanno tramato nell'ombra contro il loro popolo e il loro Paese. Di fronte alla guerra violenta di opposti estremismi, nero e rosso, che in quella stagione di sangue e di altri conflitti internazionali provarono a rovesciare la Repubblica e la sua democrazia, possiamo dire oggi con certezza, che ha prevalso lo Stato, la Repubblica, il suo popolo, con i suoi autentici, leari servitori. Una vittoria che è stata di tutti i cittadini italiani, che si sono sempre raccolti nei momenti più bui attorno alle istituzioni e che non sono mai lasciati sedurre dalle insidie della violenza e della lotta armata, dell'eversione, che mai hanno reclamato l'instaurazione di misure autoritarie per sconfiggere la minaccia terrorista.